Il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato ieri mattina una ordinanza che riguarda i proprietari di terreni fronisti di strade comunali e vicinali, oltre che di fondi agricoli anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, i vinclusi gli enti pubblici, società pubbliche o private che svolgono funzioni di pubblica utilità, i proprietari e gestori di terreni ed aria scoperte destinate a qualsiasi uso. Questi devono provvedere sistematicamente alla completa ripulitura di fossi dalle erbe e da qualsiasi altro ostacolo o impedimento, alla sagomatura dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata d'acqua che devono smaltire in maniera da evitare ristanni o rallentamenti, alla pulizia dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili. Devono inoltre provvedere al tempestivo smaltimento di tutto il materiale raccolto a norma di legge, nel corso dello svolgimento delle lavorazioni agricole e di fondi confinanti con strade pubbliche o private ad uso pubblico, di mantenere una distanza di almeno 2 metri dal ciglio del fosso e almeno 4 metri dal piede dell'eventuale rilevato arginale o ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione dei fossi e il danneggiamento delle strade. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 75 a 500 euro e in caso di inadempienza l'ente potrà agire in danno addebitando le spese ai titolari delle aree.